Ciao a tutti, oggi il rally lo abbiamo fermato per una giornata a Roma di incontri con ambasciatori ma soprattutto con l'OSCE che è l'organismo a cui noi abbiamo chiesto di venire a monitorare le elezioni politiche di marzo 2018 e a cui abbiamo chiesto anche di monitorare le elezioni siciliane visto tutto quello che è successo. Se in Sicilia ci fossero state delle elezioni libere noi avremmo vinto e se ci fosse stato un monitoraggio sui seggi siciliani probabilmente tutto quel voto di scambio non ci sarebbe stato. La buona notizia è che dopo tante richieste con lettere scritte all'OSCE da me, da Emanuele Scagliusi che è il nostro deputato e fa parte degli osservatori OSCE della delegazione, siamo riusciti ad ottenere che l'OSCE venisse qui in Italia, adesso stanno incontrando le forze politiche, le istituzioni, il mondo dei media, il mondo degli stakeholders, delle associazioni per creare e fornire all'organismo una relazione che poi consenta di decidere se monitorare le elezioni di marzo 2018 o meno. Noi abbiamo posto quattro punti oggi alla delegazione che abbiamo incontrato. La prima preoccupazione che abbiamo è sugli impresentabili e il voto di scambio che generano. C'è sicuramente da monitorare i seggi ma anche le dinamiche sul territorio che si innescano quando personaggi dalla dubbia moralità vengono messi nelle liste dei vecchi partiti e controllano i voti sezione per sezione andando a verificare quanti voti sono usciti dalla singola sezione che dovevano appartenere a quella famiglia o a quell'imprenditore con i suoi dipendenti che era tenuto a portarglielo. Queste sono dinamiche che riguardano il ricatto, le promesse materiali della politica, promesse di basso livello e soprattutto la commistione con le organizzazioni criminali. Gliele abbiamo raccontate bene. Il secondo tema che ci preoccupa sono i media. Abbiamo detto che siamo preoccupati delle fake news ma delle fake news che vengono dalla tv di Stato, che vengono da autorevoli quotidiani, che vengono anche dalle tv di Berlusconi che colpiscono molto spesso il Movimento 5 Stelle, ma colpiscono i cittadini perché non permettono ai cittadini di ricevere tutte le informazioni corrette. E in una tv in cui la RAI è in mano al governo e altre tre reti sono in mano all'altro che si candida con la sua coalizione di centrodestra che è Berlusconi, siamo molto preoccupati. E l'OSCE monitora anche questo, cioè monitora il corretto svolgimento della campagna dal punto di vista dei media e quindi gli abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni. Il terzo punto su cui abbiamo posto l'accento riguarda invece i finanziamenti alle forze politiche. Loro erano molto interessati nel conoscere il nostro modello di finanziamento. Gli abbiamo detto che non prendiamo finanziamenti privati e non prendiamo finanziamenti da grandi lobby. Non prendiamo i rimborsi elettorali, semplicemente noi raccogliamo i fondi della campagna dalle persone che ci credono. E su questo il rally va alla grande perché in dieci giorni noi per questa campagna delle politiche 2018 abbiamo già raccolto oltre 170 mila euro. 170 mila euro in dieci giorni con donazioni di 30 euro l'una. Questi sono temi importantissimi per noi che gli abbiamo messo anche in una relazione che gli consegneremo nei prossimi giorni. Una relazione dettagliata su tutte le distorsioni del voto di scambio, dei media controllati con conduttori di talk che vengono cacciati dalla RAI perché non schierati col potere. Dei problemi legati al finanziamento privato e al finanziamento pubblico ai partiti che drogano la politica italiana. E speriamo che l'OSCE decida di venire a monitorare le elezioni del 2018. In che modo ve lo dice Emanuele? Abbiamo richiesto all'OSCE di venire in Italia a vigilare sulle elezioni con un monitoraggio approfondito proprio perché vista la situazione della nostra democrazia, la situazione dei media, i precedenti che ci sono stati in merito ai brogli elettorali e anche alla legge elettorale modificata negli ultimi sei mesi della legislatura abbiamo sostenuto che è importante venire nel nostro paese a monitorare con un'ampia delegazione, la più grande possibile, che monitori quindi sia la situazione, il giorno del voto all'interno dei seggi e durante lo scrutinio, sia tutto il processo di campagna elettorale, dal finanziamento all'esposizione nei media dei candidati. Queste sono state le nostre richieste all'OSCE, quindi un forte impegno da parte dell'OSCE. Mercoledì votiamo in Commissione Affari Costituzionali, una risoluzione che impegna il nostro governo a invitare gli osservatori dell'OSCE e a fare alcune modifiche legislative, quindi non ci sono più scuse, il monitoraggio in Italia è fondamentale e gli osservatori dell'OSCE hanno anche espresso la loro disponibilità.